Benvenuto. Sembra quasi pari. Abbiamo studiato la tua specie. Vedi, fai parte della storia di famiglia. Ci sono dei segreti nascosti nella vostra vita, dei segreti che vogliamo scoprire, sulla tua specie e sull'origine delle creature che cacciate. Sono certo che li scopriremo in tempo, ma sarebbe più semplice se catturassimo uno di voi per assisterci. Prendete quell'essere vivo. Lo voglio soltava l'operatorio con gli organi ancora funzionanti. Bio-entità non autorizzata rilevata nella zona protetta. Avvio contro misure ambientali. Sembra che continuiamo a sottovalutarti. Non lasciate che vede bene dal futuro. Adio! Sì! 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 Attenzione! Sistemi di contenimento del laboratorio disattivati. A tutto il personale, sicure le procedure di evacuazione. Attenzione! Mancato contenimento. Uso di nozzale cacciatore acquisito. Il salio cacciatore acquisito. Il salio cacciatore acquisito. Il salio cacciatore acquisito. Il salio cacciatore acquisito. Attenzione! Camera della matriarca compromessa. Personale di sicurezza aggiuntivo necessario. Dai nostri primi viaggi di scoperta, al commercio più veloce della luce, la Weyland-Yutani Corporation è all'avanguardia della nuova frontiera. Weyland-Yutani, costruiamo bombi migliori. Weyland-Yutani, costruiamo bombi migliori. Weyland-Yutani, costruiamo bombi migliori. Weyland-Yutani, costruiamo bombi migliori. Il commercio è l'avventura. 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 è l'avventura.